mamma mia ragazzi è finito il primo tempo di Cagliari Fiorentina c'è una cosa che io da romanista mi sto cagando addosso perché ragazzi questi non sono una meteora qui c'è della programmazione tanto è vero che c'è una programmazione che si è fatto male i pavoletti e hanno preso il ciovito Simeone che tutti ha detto ah vabbè ma chi capirai quello insegna manco con le mani bene si è fatto male i crani hanno preso Olsen ah ma chi qua la pippa ok sia Olsen che Simeone sono stati rigenerati ok Olsen ha fatto sì Olsen Simeone ha fatto un go di tacco della madonna ragazzi Nainggolan Nainggolan ma chi è finito ma chi quel drogato ah come no ma l'avete vista l'azione del primo gol a parte un flipper impazzito Cicarini che da palla c'è a Petro che di più ma Nainggolan che d'esterno da Rog che la mette su 3-7 e il secondo gol sempre assist il secondo gol il terzo gol sempre assist Nainggolan è scioglito di tacco cioè quando stai in fiducia poi ti riesci il mondo ti riesci di tutto uno dei centrocampi più forti in Italia più cattivi ma anche che giocano il pallone Pisagane vabbè poi chiaramente la volentina cioè porca mignotta il gol di Pisagane Pisagane che manco salta da solo colpisce il pallone e davanti a lui non so se c'era tipo Vlaovic se scansa Vlaovic se scansa Drongoski che dove può mettere le pezze però poi a un certo punto ragazzi quello ma che dobbiamo fa cioè stanno arrivati a tutte le parti quindi complimenti complimenti a Cagliari ancora una volta già l'avevamo detto settimana scorsa contro l'Atalanta contro la Fiorentina sta facendo un partitone complimenti a Maran per come li mette in campo Luca Pellegrini che se permette di fare i sombreri praticamente gli riesce tutto ma lo stesso cacciatore i stessi centrali è una squadra in questo momento perfetta Giovo Petro che è un cacacazzi è una punta di quelle moderne che va da per tutta rompe i coglioni riparte cioè praticamente è quasi un trequartista non so che dire più che di complimenti che ve devo dire chiaramente da romanista io spero che a un certo punto si fermeranno magari un Europa League una cosa un po' più tranquilla perché se no se vanno avanti così poi rientreranno a un certo punto i vari giocatori i vari pavoletti i vari grandi eccetera per cui ma ripeto c'è la programmazione perché tu quest'anno avevi costruito una rosa competitiva per puntare a certi obiettivi se si fanno male i due giocatori più rappresentativi probabilmente il portiere e l'attaccante e vai a prendere comunque due giocatori di espessore che stanno giocando bene che stanno rendendo al massimo perché Simeone oltre al gol ha anche un'altra occasione dove si era involata aveva saltato i difensori come Birilli e poi aveva impegnato Trongoschi per cui vi devo dire complimenti buon prezzo a tutti grazie a tutti